Parigi, ci spostiamo dal Wisher Festival al Saint-Catre, spazio polifunzionale, artistico e sociale che nasce sulle ceneri di un'ex rimessa per carrozze funebri e si trasforma in un luogo in cui le persone si incontrano e scoprono un nuovo modo di stare insieme e creare cultura. Al suo interno c'è la Nouvelle Fabrique, non un semplice Fab Lab, come ci spiega Vincent, uno dei suoi creatori. Questo è un carabattante, un luogo di lavoro, inpire da Fab Lab, ma non solo. Ci siamo lavorati sulle idee di un nuovo fabri, un micro-fattore in la città. Ci sono posizioni in prossima, in cui sono possibili un luogo di chiave, una chiave workshop per gli santi. Il progetto è non solo un'efficienza numerica, ma come è possibile creare un luogo, un luogo di lavoro, che rendano forti collegamenti con le attività dell'arrivamento. Io non ho designato, ho fatto un studio di Lowe per un lungo tempo, quindi non ho come da questo. Credo che abbiamo messo la stessa idea. Non lo so, magari voi conosceva questo ragazzo, John Ruskin, che dice che il più valore del lavoro non è quello che vengono rendere, ma il modo che vengono essere trasformato dal lavoro. E questo è quello che non stiamo cercando di fare, ma la filosofia che abbiamo compito con le persone che lavorano qui. Quali pensi del movimento di MAKER? Perché in un fablab vi metti MAKER e persone che vogliono fare lo stesso. Penso che questo è un movimento normale, non è eccezionale, perché sappiamo che nel 1970, nel 2015 c'era questa idea di tornare alla vita reale. Questo è un ciclo, e siamo tornati a questa idea che bisogna fare cose con le mani. Grazie a tutti! Grazie a tutti.